Nei primi 100 giorni della sua gestione, Presidente, su cosa ha puntato? I primi 100 giorni della gestione della Confagricoltura Frosinone sono stati molto importanti perché abbiamo iniziato fin da subito ad attuare una riorganizzazione interna dal punto di vista funzionale, non certamente strutturale, di tutta quanta la nostra macchina. La macchina della Confagricoltura Frosinone è molto presente sul territorio, ha una struttura ramificata e spazia da servizi che partono dall'assistenza di patronato, l'assistenza fiscale, l'assistenza anche in campo assicurativo, l'assistenza tecnica agricola, servizi paghe e quant'altro. La struttura conta numerosi associati, oltrepassiamo i 1800 associati, che chiedono tutela dal punto di vista sindacale e chiedono assistenza sotto tanti punti di vista, sia quelli appunto che riguardano le attività di patronato, quelle che riguardano le attività fiscali, sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle numerose aziende di cui curiamo anche aspetti tecnici. Sono un agricoltore ormai storico da generazioni, lo erano i miei avi, lo erano i miei genitori, insomma quindi da molto tempo. Conosco il comparto agricolo da agricoltore, non ovviamente da presidente della Confagricoltura Frosinone. Oggi lo vedo sicuramente in una chiave molto più dinamica rispetto a quanto non lo vedessi prima, perché riesco ad avere contezza di alcuni numeri che il comparto agricolo produce sul territorio. Sono numeri importanti, numeri che chiedono tutela di un comparto che riesce a essere, anche con tutte le difficoltà e con tutte a volte delle piccole dimenticanze della politica, un comparto che riesce a essere importante e produttivo.